Mattina e sto finalmente andando verso Petra, ho dormito in Vadimusa e adesso vedremo, vedremo. Così sarebbe la seconda delle sette meraviglie del mondo nell'ultimo mese, per quasi prenderci gusto e farle tutte, però potrei anche dover lavorare ogni tanto. Vabbè, ci aggiorniamo tra poco. Allora ci siamo, siamo all'ingresso, questo è il Sik, il canyon che porta a Petra, e vedete che già può mettere soggezione, adesso arriveremo all'entrata e vi farò vedere cos'è. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.